ciao carissimi nipoti oggi video molto veloce per salutarvi e dirvi che sono contenta che guardiate i miei video che vi sentiate meno soli sulla copertina del mio canale c'è il mio contatto facebook potete chiedermi l'amicizia tranquillamente e scrivermi anche via chat io rispondo sempre anche di notte oggi sono qui nel nostro appartamento che affittiamo i turisti devo farmi tutte le pulizie quando quindi avrò tre quattro ore insomma toste o un bel riso non è mai in bianco il mio se vedete brown rice con frutti di mare perché me lo mettono solo con pomodolini vado fuori di testa ho bisogno di mangiare qualcosa che poi vado a bruciare ma così fa stare bene il mio cervello fa stare bene i miei muscoli tutto quanto e funziona correttamente e se non bastasse la mia solita fettata di pizza perché ho deciso che niente il cibo troppo pulito troppo poco per me non va bene anzi potrei fare un video su questo fatemi sapere ciao ciao ciao